Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ai quanta dir qual era e cosa dura sta selva selvaggia e aspre porte che nel pensier rinnova la paura. Liceo classico? No, il Filiberto Menna, liceo artistico. Grazie a tutti.